Non resiste all'incursione brindisina l'US Agropoli di Mister Esposito che perde per 1-0 la prima finale di play-off per la promozione in Serie D. I Delfini hanno resistito fin troppo alle tante occasioni da rete dei pugliesi e in buona sostanza l'1-0 è un risultato non allarmante perché nella finale di ritorno ad Agropoli l'8 giugno prossimo i Delfini potranno ribaltare il risultato e ritornare dopo tre anni in Serie D. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati una settimana fa i calciatori del Brindisi in festa sotto la curva. Il Brindisi vince per 1-0 il match di andata nella finale contro l'Agropoli e cerca di avvicinarsi all'obiettivo finale con la promozione in Serie D. Dopo soli tre minuti è subito pericolosa la formazione bianca-azzurra con un quarta che ci prova da posizione centrale la sfera termina di poco alta sulla traversa. L'occasione più pericolosa per l'Agropoli arriva al dodicesimo Tandara il suo diagonale colpisce il palo al ventiduesimo doppio tentativo di Pignataro prima la sua punizione termina sulla barriera poi la ribattuta è parata dall'estremo difensore avversario. Al trentacinquesimo calcio d'angolo sul secondo palo c'è Frucci ma la sfera termina sul fondo. Ci prova al quarantesimo quarta su punizione colpo di testa di Frucci la sfera termina di pochissimo sul fondo. Nella ripresa il Brindisi è più determinato e all'undicesimo troverebbe anche il gol che sblocca il risultato con un insedimento e il colpo di testa di De Pasquale che però viene annullato per un dubbio fuorigioco. Al diciassettesimo è clamorosa l'occasione per Pignataro che protegge la sfera entra in area colpisce a botta sicura ma il palo interno gli nega la gioia del gol. La rete però è nell'area e il Brindisi la trova al ventisettesimo con il solito Dino Marino che entra in area con intelligenza attende il movimento dell'estremo difensore avversario e trova il piattone vincente che vale l'uno a rete a zero per la formazione bianca azzurra. Al trentasettesimo il Brindisi reclama per un fallo di mano in area di rigore il direttore di gara decide per fallo in attacco della formazione brindisina. Al trentanovesimo ci prova Procida dalla sinistra il suo diagonale deviato dal numero uno campano sulla ribattuta De Pasquale manda clamorosamente l'occasione per il 2 a 0. Il risultato non cambia e fra una settimana il Brindisi ad Agropoli partirà con il vantaggio di una rete a zero. Si attende l'esodo dei tifosi bianca azzurri che Alfanuzzi in quasi 5.000 hanno sospinto la squadra a questo importantissimo successo.